Non c'è molta voglia di parlare, il giorno dopo il dramma che si è consumato il terzo piano di questo condominio in via Signorini a Torino, dove da 51 anni vivevano Norberto Ranaudo e la moglie Luciana Savonitto. L'amore è di una vita per Norberto che non sopportava più di vederla soffrire. La signora Luciana da tempo era malata di Alzheimer ed era appena tornata a casa dopo un periodo di ricovero in una residenza assistenziale dove i sanitari non avevano dato molte speranze di ripresa. Ed è a quel punto che l'uomo ha deciso di farla finita. Ha scritto un biglietto d'addio dove esprimeva tutto il suo dolore, ha impugnato la pistola, una beretta regolarmente detenuta, ha prima sparato al gatto, poi alla moglie e infine ha rivolto l'arma contro di sé. A dare l'allarme è stata una parente. Vedendo che i coniugi non rispondevano alle telefonate, ha chiamato i vigili del fuoco che quando sono entrati nell'abitazione li hanno trovati senza vita. Mi dispiace tanto, guarda una cosa terribile. Un tragico epilogo che ci riporta ad altri casi simili accaduti di recente. Quello in via Michele Coppino dove un ex partigiano ha ucciso la compagna malata e poi si è tolto la vita. E quello di Rivoli in cui il figlio settantenne ha ucciso la madre centenaria dopo aver scoperto di avere un tumore. Quando uno non sopporta più, secondo me specialmente gli uomini, perché le donne sopportano tanto e guardano l'uomo fino alla fine. Sono gli uomini che lo sopportano. Spero che capiti meno possibile perché è una cosa troppo brutta. Grazie a tutti.